Allora abbiamo detto, laterali. A sinistra c'è Miniero, l'agente napoletano del Vomero. Benissimo, dall'altra parte? Vai, vai al bagno, vai. Vai al bagno, no. Vuole giocare a centrocampo. Chi? Ma forse per me tu faresti il pallone. Lo capisci di te? Faresti il pallone se fosse per me, a centrocampo. Se stai ancora qui e per grazia ricevuta, lui lo dovete mettere stopper e lontano, molto, molto lontano da me. Senti, la pistola la tieni scarica come ti ho ordinato tempo fa, Sì, ma... Eh sì, nessuno che vuole vedere. Metti via quella pistola. Metti via che sei pericoloso. Sta parlato. E comunque, per aprire le noci, per mettere le chiuve, è sempre utile. Le chiuve? Eh sì, no, quelle le chiuve, per attaccare un quadro, per aggiustare un tavolino, per fare... I chiodi, i chiodi. Maledetto, i chiodi. Per lo che ho spardo delle fiori. Zitto! Per lo che ho spardo. Per lo che ho spardo. Grazie.